Lei che fa le valigie e con la figlia che l'ha in blu torna a Milano, poi la stories che conferma il momento difficile della coppia, infine lui che posta un messaggio carico d'amore quasi a voler smentire la marietta incluso La telenovela mediatica che vede protagoniste Sofico Degoni e Alessandro Basciano alimenta il gossip Sì Cosa ci sia di reale in tutto quello che viene poi condiviso via social lo sanno solo loro, certo è che la loro relazione è l'infa quotidiana delle cronache rosa L'ultimo gesto plateale, in ordine cronologico, porta la firma di Basciano, quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo Siamo Steve e Lex Jeffing sui social e lei ricambia con un piano Potranno quindi dormire sonni tranquilli i fans della coppia perché i due non si sono detti addio, stanno solo attraversando un momento turbolento, a detta della tronista, anche se il compagno, minimizza Un post condiviso da Alessandro Basciano Chioccio Laiam sottolineatura Le Basciano Un post condiviso da Alessandro Basciano